Buongiorno a tutti, oggi vogliamo presentarvi un video tutorial dove realizzerò una collana fatta con degli elementi composti appunto da noi, con l'utilizzo della catena a palline e di alcuni componenti svaroschi. Per la realizzazione della nostra collana abbiamo bisogno di catena a palline, questa è quella diamantata da 1,5 mm, ne abbiamo bisogno di almeno due confezioni, poi abbiamo bisogno di un terminale per fasce di tessitura ma che questa volta utilizzeremo in una maniera diversa, poi abbiamo bisogno di terminali per catena a palline, degli annellini argentati, abbiamo bisogno di un castone per rivoli, in questo caso è un link, un castone che insomma ci serve come link e poi abbiamo bisogno di due rivoli da 12 mm svaroschi, la colla, la hypocement e una pinza con tronchesina. Come prima cosa incolliamo il rivoli al castone, quindi con l'hypocement che appunto è specifica perché non opacizza lo svaroschi andremo a metterne un pochino all'interno del rivoli, del castone, un pochino sulla base del rivoli e poi lo inseriremo. Così nel frattempo che la colla tirerà noi possiamo realizzare il componente con la catena a palline. Il componente che dobbiamo realizzare è questo, quindi è una fascia appunto realizzata con la catena a palline che ho realizzato utilizzando i terminali per fasce da tessitura. Quindi questi sono i terminali, vedete sarà sufficiente chiudere uno dei due lati, così andarlo proprio a chiudere e poi inserire dall'altro lato la catena, vedete si ferma, si blocca e quindi noi adesso dobbiamo semplicemente tagliare a misura la catena, quindi la tagliamo, ecco qua e poi dall'altro lato faremo la stessa cosa, quindi chiudiamo questo qui, in questo modo, andiamo ad inserire anche qui la pallina che si ferma e così andiamo a realizzare tutta la fascia, quindi facendo attenzione a tagliarli tutti della stessa misura e poi inseriremo di qua e di là fino a concludere, quando avremo finito chiuderemo appunto, vedete questa aluccia, chiamiamola così, in modo da bloccare le catene e questo qui è il componente finito, ecco qua i nostri rivoli si sono incollati, la colla ha tirato, quindi adesso andiamo a montare la collana, prendiamo un anellino, lo apriamo, ci inseriamo qui e ci attacchiamo il rivoli, in questo modo, e chiudiamo l'anellino ecco qua, dopodiché prendiamo il pezzetto di catena che vogliamo andare a mettere come proprio come catenella e lo inseriamo in uno di questi terminali che sono dei terminali specifici per queste catene a palline, ci infiliamo all'interno e poi chiudiamo, lo chiudiamo e mettiamo, lo dobbiamo andare ad attaccare qui, quindi prendiamo l'anellino, lo apriamo, lo apriamo in questo modo, ci andiamo ad attaccare qui, lo dobbiamo aprire un pochino di più perché l'anellino del link è piuttosto grandino, ecco, e poi andiamo a filare questo, questo poi piano piano si sistema, diciamo che prende la forma, ecco qua chiudiamo l'anellino, vediamo bene e ora andremo a fare lo stesso lavoro dall'altra parte, ecco qua allora, io adesso questa la giro, gli faccio fare un piccolo incrocio perché il link va messo dal lato giusto, quindi se bisogna farlo, bisogna farlo subito, se no si può anche lasciare dritta appro l'anellino, infilo il link e chiudo l'anellino, poi metto l'altro terminale, altro terminale per fasce, per catene a palline, eccolo qui, lo chiudo, lo stringo, prendo l'altro anellino lo apro, lo apro, infilo il link, infilo il terminale, e chiudo ora, farò lo stesso lavoro qui, per andare a mettere la chiusura, perché la collana chiede una chiusura, non è una collana molto lunga, quindi non si può, o perlomeno come l'ho pensata io, però poi voi potete anche farla più lunga e quindi utilizzarla infilandola dalla testa senza chiusura, però io l'ho studiata con la chiusura e quindi andremo semplicemente a fare lo stesso lavoro, vediamo se riusciamo, ecco qua, stringiamo, stringiamo bene con le pinze, stringiamo questo, prendiamo, faccio i due anellini, ecco qui, e andremo ad infilare questo, ecco qui, mettiamo un anellino e la chiusura a gancio, e chiudiamo l'anellino, e anche dall'altra parte, mettiamo un anellino e l'altro pezzetto di chiusura, l'altro lato diciamo, ecco qua, teniamo sotto, e chiudiamo, e la nostra chiusura a gancio che abbiamo sistemata, e questa è la nostra collana. Vi volevo solo dire una cosa, ricordare una cosa, che siccome questi link sono duble fas, volendo potete avere un'alternativa a questo, diciamo, a questo sbirlocetio tipico dello Swarovski, girandola, e quindi mettendola dal lato, dal lato del, del, argentato del castone. Eccoci qui, il nostro video è finito, spero che questa collana semplice ma carina vi sia piaciuta, e un saluto da Elisabetta, ciao!